I demoni si nutrono e sono golosissimi di lamento, di angoscia, di dolore e noi possiamo fare a meno di provare dolore in una dimensione duale? No, no, non è possibile non provare dolore, non avere l'esperienza del lamento, non avere giudizio, non è possibile non avere desideri, non è possibile non cadere a volte in quelle situazioni di angoscia, però abbiamo la possibilità consapevolmente di uscirne fuori immediatamente quando ce le ricordiamo e soprattutto quando ci ricordiamo che un lamento prolungato, che un dolore prolungato, che un'angoscia prolungata è come se creasse un banchetto succulento per i demoni, i demoni ci sono in questa dimensione duale, assolutamente sì, ma il fatto di prolungare il proprio interno della propria vita, dolore, sofferenza, quando a un certo punto noi consapevolmente possiamo uscirne fuori, cambiare la vibrazione che emaniamo, bene, fa sì che questi demoni vengano nella nostra casa, nel nostro rampito. Noi viviamo tutti insieme all'interno di un vaso dove vige la dimensione individuale, le leggi della polarità, però ognuno di noi rappresenta un alambicco o un vaso a sé stante. Allora, tutte le volte che insistiamo nella lamentela, insistiamo nel rimanere nel dolore, nell'angoscia, nella sofferenza, nella tristezza, ecco che lì è come se una parte di noi stesse in cucina continuamente a preparare piatti succulenti per questi demoni. E i demoni bussano la nostra porta, sentono il profumino, vengono. E noi cosa facciamo? Apriamo costantemente e facciamo accomodare questi demoni. Il che non sarebbe male, perché poi alla fine, no? Se uno è consapevole, ma che te frega, ma falle entrare anche un demone, lo fai accomodare consapevolmente, no? Perciò stai dando anche a quella parte che ha il diritto di esistere all'interno di questo crociolo, di questo arambicco, ma lo fai consapevolmente. Allora a un certo punto dici, sai cosa? Come mai entro nel dolore e questo dolore si protrae continuamente anche nel tempo, uguale con la sofferenza, uguale con l'angoscia, uguale con il lamento? Proprio per questo. Proprio per questo. perché si sosta all'interno di una emanazione di vibrazione che attrae, come un profumino che arriva da una cucina, i demoni. I demoni sono golosissimi di angoscia, sono golosissimi di lamento. Uno dice, ma come posso io, Eddie? Perché mi stai dicendo questo? Innanzitutto ti sto dicendo questo perché anche io, con questo video, entro all'interno della tua vibrazione. Cioè, se sei arrivato a questo punto del video, vuol dire che l'universo, attraverso di me, attraverso il tuo smartphone, sta cercando di accontentare quella parte di te che vuole uscire fuori da questo club di demoni che sono lì continuamente a banchettare nella tua esistenza, nella tavola della tua esistenza. Perciò una parte di te vuole assolutamente comprendere una grande verità, una verità che non ti verrà mai detta alla scuola, nelle scuole, alla televisione, perché è una verità incredibile che ti porta a comprendere come che sia importante, importantissimo, e stame bene a sentire, di rimanere presente nella gioia, oltre che nel dolore. Perché? Perché rimanere presente nella gioia, perciò rimanere presente quando le cose vanno bene, quando si è in vacanza, ad esempio, ci allena a rimanere presenti anche nel dolore e ci allena anche a presentare di fronte e sul banchetto dei demoni non piatti succulenti, ma un piatto ogni tanto con tre olive amare. I demoni quando vedono il piatto con tre olive amare prendono e vanno via, vanno da un'altra parte, andranno a banchettare in un'altra casa. Ma tu non puoi fare a meno di poter dar loro l'opportunità di nutrirsi, perché la dimensione duale dà a loro l'opportunità anche di nutrirsi, perché loro sono presenti, angeli e demoni, bene e male, il bello e il brutto. però quello che fa la differenza è il ricordo. Tu non riesci a ricordare perché la parte di te, quella bella, quella che è rappresentante dell'anima, che salta di vita in vita e che ha un'età incredibile, viene a volte dimenticata dalla programmazione del corpo che stai abitando. Il corpo che stai abitando è una programmazione data da tantissime informazioni. Te ne accorgi a un certo punto. Ti accorgi che quella programmazione è molto più forte della parte di te che a un certo punto vuole liberare la tavola dai demoni. Come succede? Succede con uno sforzo. Lo sforzo di ricordarsi di sé è importantissimo, ci fa diventare consapevoli nel momento in cui arriva il dolore, arriva la sofferenza, si accoglie la sofferenza, non si respinge, però si è anche consapevoli che nell'accogliere quella sofferenza, quella sofferenza a un certo punto svanisce, evapora e non diventa un piatto succulento per i demoni. E poi in qualche maniera prendono tutta quella confidenza e rimangono nella propria casa, nel proprio vaso, nel proprio alambicco, nella propria vita. E poi è difficile mandarli via, è difficile mandarli via perché abitiamo poi tutti insieme, noi soprattutto occidentali, all'interno di un crogiuolo fatto di superficialità, di materia che ci porta via dalla parte più sottile, più animica, dell'attualità. Allora, riepilogando, arriva la sofferenza, il dolore, l'angoscia, il lamento, ci sta assolutamente, ma sono consapevole immediatamente di un'osservazione che mi dà l'opportunità di ricambiare frequenza, di ricambiare vibrazione. In quel momento se protraggo un lamento vuol dire che sto in cucina e sto cucinando dei piatti prelibati per i demoni. Lamento, angoscia, dolore. Sono piatti prelibati, gustosi, succulenti per i demoni.